Ciao a tutti, in questo tutorial vi faccio vedere come fare dei disegni immaculati su questo maione noioso color tortora, tinta unita. Allora, inizialmente faccio delle forme arrotondate, un po' irregolari. Le macchie immaculate le faccio colore oro e nero. Io non voglio farle dappertutto, quindi le faccio solo su un lato. Dopo aver fatto le macchie a oro, prendiamo il colore nero. Questi sono colori per tessuto, colori acrilici. Quindi col nero andiamo a picchiettare sulle macchie dorate attorno. È meglio che il colore oro sia asciutto. Gli facciamo questi disegni un po' irregolari, un po' appunto a macchia, che l'effetto deve essere proprio quello, cioè una stampa un po' astratta, un po' artistica. Grazie. 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 E anche per questo tutorial è tutto, spero che vi sia piaciuto, mettete un bel like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale mi raccomando, seguitemi anche su Facebook e su Instagram Un bacione e alla prossima, ciao!